ciao amici avete presente quei buonissimi dolci tradizionali italiani beh io ci avevo rinunciato da tempo perché troppo pieni di zuccheri grassi calorie ma poi ho pensato perché non farli in versione light trendy e sana ottima idea e cosa aspetti a condividere infatti oggi vediamo insieme la ricetta light delle frittelle non fritte ma secondo te si chiamano frittelle a caso in ogni caso oggi le faremo cotte al forno molto più leggere che fritte così anche più avanti per carnevale le possiamo gustare in leggerezza e divertirci senza il pensiero di ingrassare che rovina sempre tutte le feste vediamo subito la ricetta ma prima se vi piace l'idea mettete un bel mi piace tanti mi piace altri nuovi video ingredienti per sei persone 300 grammi di farina bianca di farro 200 grammi di fecola di patate 4 uova o due vasetti di yogurt di soia bianco 200 millilitri di latte vegetale 170 grammi di zucchero di canna 15 grammi di lievito per dolci la scorza grattugiata di un'arancia preparazione in una terrina mescolare le uova o lo yogurt in versione vegana con lo zucchero e montare il tutto con le fruste elettriche per renderlo bello spumoso aggiungere il latte vegetale a temperatura ambiente e la scorza d'arancia a parte mettere in una ciotola la farina di farro setacciata la fecola e il lievito mescolare e poi aggiungerli piano all'altro impasto amalgamare bene il tutto con la frusta per eliminare eventuali grumi con un cucchiaio formare delle palline e stenderle su una teglia con carta da forno cuocere per 15 minuti a 180 gradi una volta fredde a piacere si possono spolverare con lo zucchero a velo fatto in casa frullando lo zucchero di canna ad alta velocità per preparare altre ricette golose ma sane leggere iscrivetevi al canale e cercate i vostri argomenti preferiti nelle playlist ce ne sono davvero tanti iscrivetevi anche alla mia pagina facebook simona vignali naturopata e al gruppo trendy e sani per sostenere il mio lavoro restare aggiornati e chiedere consigli naturali in descrizione trovate il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook utilissimi per la salute naturale mangia consapevole e vivi meglio